buongiorno buongiorno sabato mattina arrivo in officina e cosa ti trovo kanan maverick turbo è qualche giorno che è arrivato anzi direi una settimana ma volevamo farvelo vedere completo mancano ancora i cerchi perché siamo abituati a farvi vedere le cose belle abbiamo un po accessoriato sportelli pro armor vetro in due pezzi che si apre tetto in alluminio stiamo aspettando i cerchi ancora sono deciso 14 o 15 antistallonamento con gomme da 30 chissà lui di serie è arrivato con questi 12 ma carena in carbonio allargatori parafanghi sospensioni esagerate ricordiamo che ha il passo allungato ah già abbiamo montato anche terminali yoshimura accessorio originale kanam guardate che super sospensioni l'intercooler esagerato esagerato credo prossima settimana dovrebbero arrivare cerchi siamo pronti per farvelo provare potenza esagerata sempre da crociani group grazie 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 grazie